Una serata che si sarebbe dovuta concludere con un miglioramento estetico si è invece trasformata in un incubo per tre giovani ragazze magrebine che vivono nel Vallo di Diano. Le protagoniste di questa incredibile vicenda si sono infatti ritrovate al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla con labbra gonfie e deformate. La diagnosi dai medici è stata chiara. Secondo quanto riportano la testata giornalistica web giornale del Cilento e il quotidiano La Città, le tre giovani si erano sottoposte ad un trattamento estetico per ingrandire le labbra. Tuttavia il risultato ottenuto è stato ben lontano dalle aspettative. Gonfiore e deformazioni hanno causato un profondo disagio e profonda preoccupazione per il possibile esito permanente del trattamento. Non è ancora chiaro se le ragazze si siano rivolte ad un professionista qualificato o si siano sottoposte al trattamento presso una clinica privata del territorio. I medici dell'ospedale Pollese non hanno escluso l'ipotesi che l'intervento sia stato realizzato in modo approssimativo o addirittura amatoriale. Il quadro clinico, descritto come senza precedenti, ha lasciato i sanitari perplessi nonostante l'esperienza nel campo delle complicazioni estetiche. Una situazione del genere non c'era mai capitata, hanno dichiarato i medici del reparto d'urgenza di Luigi Curto, sottolineando come una delle ragazze presentasse un gonfiore particolarmente preoccupante. Le ragazze sono state curate con ghiaccio e pazienza nella speranza di ridurre il gonfiore e riportare le labbra ad un aspetto più naturale. Tuttavia resta l'incognita sul futuro. Il recupero completo non è ancora garantito e solo il tempo dirà se le giovani riusciranno a riacquistare l'aspetto originale. Per ora la prognosi resta riservata, sebbene non vi sia alcuna minaccia per la salute generale. Ciò che preoccupa maggiormente è l'effetto psicologico che questa esperienza potrebbe avere sulle tre ragazze. Se la vicenda finirà nelle aule di tribunale dipenderà dalla decisione delle giovani coinvolte.